Io l'ho scritto su un post, pace senza sé e senza male, senza prendere posizione per forza, noi siamo per la difesa dei diritti umani, vedere quelle scene, quelle stragi, non solo in Palestina, ma in tutto il mondo la pace non è perseguita, fanno male, quindi l'Europa che ha una grande potere deve prendere posizione senza condizioni, da qualsiasi parte provengano gli attacchi, vanno condannati e vanno subito azionati gli aiuti per le popolazioni.